La vostra vista si è abbassata ancora, dovrò procurarle degli occhiali ancora più forti. E se la vista si abbassassi ancora, dovrò procurarle degli occhiali ancora più forti. E se la vista si abbassassi ancora, dovrò procurarle un bastone bianco e un bel cane. Allora, questa barzelletta parla di un dottore che parla a un medico. Questo medico vuole degli occhiali ancora più forti, perché non sa vedere. Allora, io lo dice tre volte, la terza volta gli dice che gli procura un bastone bianco e un bel cane. Io scelto questa barzelletta perché mi piaceva molto. Mi chiamo Camilla Langobardi, ho sette anni, vengo da Castellammare di Stabbia, in provincia di Napoli. Io studio danza, danza classica e danza moderna, nella scuola di danza Labor Art. Mi piace giocare con le mie amiche, frequento la scuola seconda elementare al San Giovanni di Bosco. Voglio fare l'attrice perché mi piace stare sul palco, mi piace recitare. Non vorrei fare dispersione nel messo di recitazione oppure la messa di danza, quindi però seguo recitazione. Sono alta, 1,35 m. Grazie. 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 Grazie.